A Pagani si riaprono le danze, non quelle della Tammorra messe a sopire durante il lockdown, bensì quelle della politica. Tornano sui loro passi partiti e raggruppamenti elettorali e scelgono la strada del dialogo. Dopo una fuga in avanti di tanti, si ravvedono in molti ed ora cercano di rimettere insieme i cocci rotti per la foga del momento. Complici anche i diktat nazionali, tanto a destra che a sinistra che a centro, tornano a parlarsi i coordinatori locali di aree ideologiche e politiche affini, anche se con i dovuti distinguo. E così si assiste nuovamente ad aperture e ipotesi di allargamento di alleanze. La diplomazia politica la fa ovviamente da padrona. Si dice e non dice, ma nessuna voce ufficiale si pronuncia. Novità dell'ultima ora parlano di una quadra quasi raggiunta nel centro-destra tra Forza Italia, Lega ed Udc. Lasciato campo libero al partito di Berlusconi nella scelta, sarebbe stata avanzata dai forzisti la candidatura Paolillo, che porterebbe con sé il bagaglio di due liste forti già pronte. Ad Enzo Paolillo potrebbe però essere chiesto di indossare la casacca del partito rappresentato in città dall'onorevole Marzia Ferraioli. Sul suo nome potrebbe esserci stato il via libera di Lega ed Udc. L'alleanza lascerebbe fuori dal cartello di centro-destra solo Fratelli d'Italia, ma non è detta l'ultima parola. Sotto traccia, più di qualcuno supportato da costole distaccatesi da Forza Italia starebbe lavorando per la piena unità secondo i voleri dei leader nazionali, che avrebbero peraltro affidato al partito Cambiamo un ruolo di mediazione. Intanto la candidata Enza Fezza, designata ed ufficializzata dal partito della Meloni, va avanti per la sua strada, ben consapevole delle difficoltà che il ruolo di sindaco comporterà per tutti nella città di Sant'Alfonso. Nel centro-sinistra il partito democratico cittadino ribadisce la convergenza sulla candidatura Cascone e allo stesso tempo apre un dialogo con il polo civico nato dalla sinergia tra i candidati a sindaco di un anno fa. Non che questa coalizione abbia una propensione verso il centro-sinistra, anzi tengono a precisare i portavoce del raggruppamento, né a un proprio leader che possa identificarsi con l'ex sindaco Salvatore Bottone. Per la verità siamo più vicini al centro-destra, ma le liste saranno tutte di estrazione civica perché è così che nasciamo, dicono. Sono giorni di riflessione con una scadenza datasi per sabato mattina, quando dovrebbe essere annunciata la decisione se riconsiderare anche l'ipotesi PD o pronunciarsi direttamente sul nome del candidato tra quelli già messi sul tavolo dai vari gruppi, Santino Desiderio, Lello De Prisco, Pasquale Sorrentino, Rino Carrara e Carmela Pisani. Fino ad allora dialogo aperto con tutti. Tramontato il disegno dell'ex sindaco Antonio Donato che voleva gettare nella mischia l'avvocato Enzo Calabrese, sono queste le ipotesi intorno alle quali il PD ragiona.